Natale alle porte, nel ponte dell'Immacolata è ufficialmente scattata la corsa all'acquisto. I regali sono il test decisivo per valutare se la ripresa c'è, budget di spesa più alto, la parola ai modenesi. Una procedura semplice, rapida e meno invasiva. Presentato al Policlinico il catetere giugolare ecoguidato, un dispositivo per il trattamento di pazienti con difficile accesso venoso. I vigili del fuoco depositano la corona di fiori alla statua della Madonna per celebrare la festa dell'Immacolata. E nella stessa giornata la diocesi di Modena saluta l'ex vicario Monsignor Giacomo Morandi in partenza per il Vaticano. Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione di TGQI. Apriamo il nostro telegiornale parlando del Natale che si avvicina. Un appuntamento importante anche per i commercianti e quello dei regali sarà un test essenziale per valutare a che punto è la ripresa economica del paese. Abbiamo chiesto ai modenesi se il budget di spesa quest'anno sarà più alto. Due settimane a Natale e la ripresa economica è al suo primo banco di prova. I regali da mettere sotto l'albero saranno una importante cartina di tornasole per dire se nel paese è effettivamente cambiato qualcosa rispetto agli ultimi anni di crisi nera. Anche a Modena la corsa all'acquisto è già scattata. Sono stato appena adesso a comprarne uno, più che altro abbigliamento oppure articoli come profumi. A mio figlio quello più grande ho regalato un biglietto per un'opera a teatro, visto che lui è un appassionato, l'ho appena acquistato e per l'altro figlio sto dando un'occhiata a cosa trovo. Si sta muovendo qualcosa rispetto agli anni precedenti, diciamo che i clienti si sono messi un po' avanti. Regali 2016, budget di spesa più o meno rispetto allo scorso anno? Quest'anno leggermente di più ma grosso modo sull'anno scorso. Di poco ma un po' più alto. Rispetto allo scorso anno sì, si è alzato e quest'anno siamo intorno ai 200 euro circa più o meno. Sicuramente rispetto agli anni passati è migliorato notevolmente. Quali sono stati i fattori che hanno alzato il budget di spesa? Direi anche nel mio caso il lavoro che è sicuramente migliorato rispetto all'anno passato e anche un pochettino la sensazione che si sta uscendo da questa crisi. Ma il vento di ripresa non sembra soffiare per tutti, la crisi per qualcuno si fa ancora sentire. Calando le prensioni le spese non si possono più fare. Questi quattro giorni molto flusso di gente. Oggi, mercoledì, siamo già tornati un po' nello smarrimento del centro storico. In linea di massima per i giorni di festa c'è più movimento, le persone iniziano a dare un'occhiata e più man mano che si avvicina il periodo natalizio le persone si precipitano a comprare gli ultimi pacchi per il Natale. Meno rispetto all'anno scorso, però mi sa che fosse inevitabile. Perché meno rispetto all'anno scorso? È calata la paghetta. Questa mattina il questore di Modena Giuseppe Garramone ha donato al presidente dell'Associazione Culturale Terre 9 Ferruccio Giuliani un presepe interamente realizzato da un agente in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sassuolo in segno di riconoscenza per quanto svolto quotidianamente dai volontari nei confronti delle persone in difficoltà. La scelta di tale dono è dovuta al fatto che il maestro Giuliani è uno dei maggiori collezionisti al mondo di presepi. E a proposito di presepi, Forza Italia Giovani sostiene e promuove la campagna nazionale chiamata un presepe in ogni scuola. La Mazzacurati chiede inoltre a Muzzarelli di supportare quelli modenesi. Non è piaciuta al centro-destra la decisione di diversi istituti scolastici di negare ai bambini il festeggiamento del Natale, magari togliendo il presepe. Ci sono scuole che da tempo hanno rinunciato agli allestimenti negli ingressi degli edifici, lasciando libere maestre ed educatrici di gestire il chiuso della propria aula alle celebrazioni della Natività. Una festa sicuramente religiosa, ma che vuole essere anche un messaggio di accoglienza e di pace universale. A Modena Forza Italia Giovani non ci sta questa scelta che va contro le tradizioni e anche in città promuove la campagna nazionale un presepe in ogni scuola, una nuova iniziativa sui social media e nelle piazze italiane. I giovani azzurri sottolineano di non essere disposti a lasciare spazio a chi, in nome del laicismo, cerca di rinnegare in ogni modo la cultura italiana. Per Valentina Mazzacurati, responsabile provinciale Forza Italia Giovani, il sindaco Muzzarelli dovrebbe impegnarsi fin da ora a supportare, attraverso il comune, il presepe di Via Montecuccoli e gli altri, negli ultimi anni sdombati dalle scuole, in modo che le classi modenesi non abbiano quei falsi problemi e difficoltà burocratiche di organizzare delle visite. La natività è un simbolo riportato in tutte le religioni, ricorda in una nota la Mazzacurati, un riconoscimento di pace e speranza universale che non può che essere colto in modo positivo da tutti e che certamente non rischia di urtare la sensibilità di nessuno. Forza Italia Giovani si sofferma anche sul grande valore artistico che hanno i presepi, oltre al loro significato religioso, un aspetto che va valorizzato anche al fine di garantire la continuità di una tradizione tra le più sentite degli italiani. Passiamo ad un tema sempre caldo, quello delle tasse. Nel 2015 i modenesi hanno dovuto sopportare un aumento della pressione fiscale da 9 milioni di euro. Fortunatamente per il prossimo anno dal comune non si prevedono nuovi aggravi. Se il 2015 è stato l'anno della stangata, il 2016 non dovrebbe riservare nuove brutte sorprese per i modenesi. Per l'anno 21 l'amministrazione comunale non ha in previsione di aumentare ancora le tasse. Nessun intervento fiscale è previsto nel DUP. Il documento unico di programmazione per il triennio 2016-2018 che verrà illustrato domani in Consiglio Comunale dall'assessora al bilancio Ludovicchia Carla Ferrari. Il documento detta le linee guida di ciò che sarà nel bilancio di previsione 2016 ossia di quello che può essere definito come la legge finanziaria del comune. Lo scorso anno fin dal DUP era emersa chiara l'intenzione di Piazza Grande di sopperire ai tagli sui finanziamenti dallo Stato alzando le imposte locali. Da Roma arriveranno meno soldi, non abbiamo scelta o riduciamo i servizi o aumentiamo la pressione fiscale si difese allora il sindaco Mozzarelli. Alla fine, tra mille polemiche, il bilancio di previsione 2015 passò con un macigno da 9 milioni di euro di tasse in più. Per il prossimo anno un problema ulteriore per le casse del comune potrebbe essere rappresentato dall'abolizione delle imposte sulla prima casa che creerà un buco alla voce gettito fiscale. Ma la soluzione c'è già. Il governo, fanno sapere dal municipio, si è impegnato a sopperire con risorse proprie al taglio di muetasi. Dunque nessun nuovo balzello compensativo sulle spalle dei modenesi. Eccezione fatta per il prelievo sugli immobili cancellato da Renzi. In conclusione, nel 2016 a Modena le tasse resteranno sui livelli di quest'anno, sempre che nel corso dei mesi le esigenze di bilancio non cambino. Ci occupiamo ora di innovazioni in campo medico-sanitario. Questa mattina al Policlinico è stato presentato un nuovo dispositivo per il trattamento di pazienti con accesso venoso difficoltoso. Sentiamo. L'utilizzo è partito da Modena, ma potrebbe espandersi in tutto il mondo. Stiamo parlando di un innovativo dispositivo inventato dal dottor Lucio Brugioni, il cateterismo della vena giugolare interna ecoguidato. Questo è il nome del dispositivo sviluppato al Policlinico e utilizzato per la somministrazione di terapie mediche ai pazienti con difficoltà di accesso venoso. Al dottor Brugioni abbiamo chiesto cosa cambia rispetto al passato. La diffusione della tecnica ecoguidata ci ha permesso di capire che la giugolare interna, che è una vena del collo, era ben visibile e vicina alla cute, per cui abbiamo pensato se non si potesse sviluppare una tecnica che assomiglia a quella del cateterismo venoso periferico, cioè usare un catetere per prendere solo la giugolare interna in maniera ecoguidata al letto del paziente, molto più sicura per il paziente, molto più semplice, molto più rapida. Voi considerate che abbiamo una media nei 140 casi che abbiamo portato avanti in questo periodo di 3 minuti di tempo da quando iniziamo la procedura a quando la terminiamo. L'idea è nata nel 2005. Dopo varie prove, nel giugno scorso, si è cominciato a utilizzare al Policlinico questa procedura più semplice e veloce rispetto alla precedente, che non vuole diventare un metodo sostitutivo, ma proporsi come alternativa. Noi abbiamo la certezza a questo punto che questa è una tecnica utilizzabile è molto valida per i pazienti, nel senso che è molto meno onerosa per loro dal punto di vista biologico. Noi non abbiamo avuto nessun effetto collaterale importante, nel senso di premotorace, aritmie maligne, ematomi, eccetera, cose che purtroppo invece nella procedura del cartesismo non centrale, che ripeto è una procedura importantissima, che però si possono verificare, perché è molto più impegnativa. L'Università di Modena e Reggio Emilia ha firmato un protocollo d'intesa per la costituzione del Comitato Promotore dei campionati universitari, che si svolgeranno dall'11 al 19 giugno. La tappa di avvicinamento ai prossimi campionati universitari, che si svolgeranno dall'11 al 19 giugno a Modena e Reggio Emilia, e che richiameranno 4.000 studenti e atleti, è proseguita oggi con la firma del protocollo d'intesa, che ha dato vita al Comitato Promotore dell'evento, un momento iniziale supportato anche dalla visita della Commissione Tecnica, che in questi giorni ha preso visione degli impianti sportivi in città. Esito positivo sulle strutture modenesi. Abbiamo iniziato a lavorare qualche tempo addietro per arrivare a questo accordo, che ovviamente ci dà una certa responsabilità nell'organizzazione di tutti i giochi, ma credo che sia anche una grande occasione per valorizzare l'Università e anche le città di Modena e Reggio Emilia, che ovviamente come sede universitaria hanno il compito insieme ai CUS di ospitare la manifestazione. I campionati italiani possono essere paragonati in grande scala. Le Olimpiadi tra i partecipanti del passato sono annoverati gli ex Presidenti della Repubblica, Giorgio Napolitano e Carlo Azzeglio Giampi, ma anche Margherita Ache e Bettino Craxi. Giocando in casa i nostri atleti non potranno perdere l'occasione per ben figurare. Sono convinto che onoreranno la maglia che indossano e certamente speriamo che possano ottenere buoni risultati e anche andare a medaglie. Voltiamo pagina. Ieri sera in Piazza Grande, la tradizionale cerimonia dei Vigili del Fuoco per la festa dell'Immacolata. L'appuntamento è stato anche l'occasione per salutare l'ormai vicario della diocesi, Monsignor Morandi, in partenza per Roma. La scala dei Vigili del Fuoco sale al balcone del Palazzo Comunale. I pompieri depositano la corona di fiori alla statua della Madonna. In Piazza Grande va in scena la tradizione dell'Immacolata, una festa davanti a centinaia di modenesi, tra cui molti bambini. Abbiamo iniziato nel 1990 circa con la loro comandante, Ingegnere Golinelli, che sulla scia di quelle che sono state le manifestazioni che si erano già sviluppate anche a Roma e in occasione sempre dell'8 di dicembre, anche noi qui a Modena abbiamo pensato di rendere omaggio alla Madonna porgendoli i fiori tutti gli 8 di dicembre. Come ogni anno, il rituale dei Vigili del Fuoco è stato preceduto dalla messa in Duomo, presieduta dal Vescovo Erio Castellucci. La celebrazione è stata anche l'occasione per salutare Monsignor Giacomo Morandi, ormai ex vicario generale della diocesi di Modena, pronto a partire nei prossimi giorni per Roma, dove è stato nominato da Papa Francesco sottosegretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il cuore è pieno di gratitudine, anche di un certo, certa fatica per il distacco, per il nuovo compito che mi aspetta un po' di apprensione e quindi sono, possiamo dire, un'alta lena di tanti sentimenti, però fondamentalmente anche così la gioia di poter continuare il mio servizio nella Chiesa in una nuova dimensione. Spero proprio che l'anno della misericordia a cui parteciperò direttamente a Roma possa costituire, anche per la Chiesa, ma per il mondo intero, un momento di svolta, anche di capacità di tessere relazioni più evangeliche e anche pacifiche. È stato presentato questa mattina il convegno intitolato Impariamo a stare insieme sul tema della diversità. Alla giornata aderiscono 20 associazioni di comunità straniere. La nostra società, proprio di fronte ai grandi cambiamenti che la investono, avrebbe bisogno di accettare e abituarsi a convivere con le diversità. Per questo è stata organizzata una giornata di incontro, prevista per sabato 12 dicembre nello spazio Expo di Modena, per imparare ad ascoltare, a comunicare e riconoscere le altre persone andando al di là della diversità. L'obiettivo principale è quello di riconoscersi per riconoscere l'altro. Questo è il dato di fondo. Stiamo lavorando da mesi affinché si potesse arrivare a un diretto contatto con la realtà modenese che è mediamente del 17-18% degli stranieri per avviare un diretto rapporto creativo per conoscere i sentimenti, gli umori, le aspettative, le necessità di questa realtà per meglio intrattenerci insieme e per obiettivi comuni. L'incontro prevede la presenza di tante diversità di cultura e religione. Queste persone coinvolte dall'Associazione Democrazia dal Basso che propone l'evento di sabato si sono dette disponibili ad avere un confronto che possa sfociare anche in un rapporto continuativo per il futuro. Quali sono le diversità più forti che emergono? Ed è sostanzialmente quello dai paesi dell'est, in modo particolare nel proprio interno nella vecchia Unione Sovietica con i russi e le altre etnie collaterali ai russi. Ma ci sto lavorando perché se si è consapevoli di essere uno strumento che può unire su degli obiettivi del vivere e del contare dentro la città facendoli sentire cittadini a tutti gli effetti è possibile rimodulare i contatti, i rapporti con questa realtà, con queste etnie. La giornata che partirà alle 9.30 e terminerà alle 18.30 prevede l'impegno di 20 associazioni composte di persone che arrivano dall'estero dal gruppo di studenti africani a Modena a una comunità culturale di donne arabe dell'Emilia-Romagna. Proseguiamo con una notizia che riguarda la Maserati per la quale la Corea è diventata una dei mercati più importanti a livello mondiale. È stata infatti consegnata la vettura numero mille. È record in Corea per un'eccellenza modenese. La Maserati ha consegnato a un party la millesima vettura dimostrando grande appeal nel territorio. La Corea si conferma così uno dei mercati più importanti per Maserati ed entra nella top 5 dei mercati mondiali. Nel 2014, anno del centenario, Maserati si è imposta all'attenzione con una crescita che in Corea ha toccato il 469%. Il paese dell'estremo oriente è diventato così uno dei 5 mercati più grandi per la casa del Tridente. A meno di un anno da questo importante risultato, Maserati ne ottiene un altro superando la soglia di mille vetture vendute. Ma come ha fatto il Tridente a conquistare il mercato locale? Puntando sullo stile italiano e le prestazioni esaltanti, declinati sia in versione benzina che diesel. È stata la Ghibli a trascinare verso il record le vendite nel segmento delle berline di lusso, ma anche gli altri modelli hanno contribuito al successo. La Miraglia 4 Porti, un caposaldo e i modelli Gran Turismo e Gran Cabrio incarnano gli ideali di lusso e sportività tipici del marchio italiano. Ottima anche la strategia di Maserati, il piano di espandere la rete di concessionari in Corea con l'apertura simultanea di nuovi showroom e nuove officine in quattro regioni chiave si è rivelata una mossa davvero vincente. L'importatore ufficiale per Maserati in Corea conferma in una nota che sosterà la crescita sul territorio con l'introduzione di modelli che esaltino le prestazioni e il design italiano e con strategie di mercato che conquistino i clienti attraverso quello spirito intraprendente e inarrestabile che contraddistingue da sempre il DNA Maserati. È tempo di bilanci per Curiosa. Sono stati 45 mila i visitatori che si sono recati in fiera durante i quattro giorni della Kermesse modenese. Il servizio. Curiosa, la mostra mercato di Natale ha tirato nei quattro giorni di manifestazione 45 mila visitatori una cifra che conferma i numeri dello scorso anno per una Kermesse che sa unire la piacevolezza di un ambiente ispirato alle atmosfere natalizie con la viva città di iniziative che hanno coinvolto in modo attivo i visitatori. In particolare in questa sesta edizione sono state tante le famiglie che si sono recate in fiera per trascorrere una intera giornata insieme alla ricerca di un regalo partecipando ad un corso ascoltando uno spettacolo dal vivo e assaggiando proposte gastronomiche. Curiosa quindi si è confermata una manifestazione apprezzata sia dai visitatori che dagli espositori tra questi ultimi sono stati in tanti quelli che hanno espresso soddisfazione per l'afflusso di persone per l'andamento delle vendite la scelta di rendere curiosa un'esperienza da vivere a tutto tondo inserendo sempre elementi di novità che hanno arricchito le tre sezioni tradizionali dedicate a gastronomia creatività e regali è stata premiata e questo è il primo commento a caldo dell'amministratore delegato di Modena Fiere Paolo Fantuzzi soddisfatto per come i visitatori hanno accolto l'appuntamento che apre il mese di dicembre presso il quartiere fieristico modenese in provincia di Modena sono previsti tre presidi per contrastare i danni provocati dai lupi li ha finanziati la regione che ha stanziato in tutto tre milioni di euro la provincia di Modena non è esente dai danni provocati dagli animali selvatici in particolare dai lupi anche per questo la regione con quasi 6.500 euro ha previsto la realizzazione di tre presidi a Sassuolo Pavullo e Montefiorino per contrastarne l'azione l'idea è quella di prevenire con la costruzione di recinzioni e altre forme di difesa più che risarcire le aziende che hanno subito danni provocati dalla fauna selvatica un discorso a parte va fatto per la Nutria dall'agosto dello scorso anno infatti questo roditore a seguito di una modifica alla legge nazionale non è più considerato parte della fauna selvatica quindi i danni causanti non sono più risargibili dal punto di vista in generale della prevenzione diciamo che sono state stanziate e questo riguarda però la fauna selvatica una serie di risorse circa 3 milioni di euro nel periodo di programmazione nell'ambito del PSR quindi questo per dire che questa prevenzione è una prevenzione che è anche assistita non solo tecnicamente dai tecnici della regione delle province ma è assistita anche da una serie di risorse che sono a disposizione degli agricoltori se i danni provocati dai lupi si mantengono stabili diminuiscono invece quelli provocati dai cinghiali e dallo storno che anche nel 2015 restano le specie che colpiscono maggiormente gli agricoltori andiamo ora a Fanano dove potrà partire subito a inizio 2016 la ristrutturazione del palaghiaccio che ha ottenuto un importante finanziamento sui lavori sono soltanto due gli impianti sportivi in provincia di Modena messi a contributo nell'ambito del fondo straordinario da 5 milioni di euro stanziato dalla regione per interventi di ristrutturazione uno è lo stadio Braglia che ha avuto 440 mila euro per il rifacimento del fondo l'altro è il palaghiaccio di Fanano a cui sono stati appena destinati 150 mila euro che vanno a coprire il 40% delle spese per il progetto di restyling da 370 mila euro destinata a rendere molto più competitiva la struttura sotto diversi aspetti il piano infatti prevede innanzitutto una riduzione del consumo energetico tramite anche l'installazione di un terzo motore per fare il ghiaccio che renderà il sistema più efficiente togliendo dispersione rendendo più indipendenti dalle condizioni meteo ma si interverrà anche su tutta l'illuminazione con il posizionamento dei fari led così come sul piano strutturale è stata preventivata la sistemazione della balaostra più altri aggiustamenti in un secondo momento si passerà poi all'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto il progetto esecutivo è già stato approvato e si è in fase di predisposizione del bando di gara con l'obiettivo di partire con i lavori tra febbraio e marzo almeno negli ambiti che non interferiscono con l'attività stagionale poi si proseguirà con il resto nel periodo a cavallo tra la primavera e l'estate al termine verrà riconsegnato ai gestori della polisportiva Fanano un impianto potenziato nella sua fruibilità per ospitare eventi di rilievo anche nazionale restiamo in appennino perché dopo il successo di quest'estate ecco la versione invernale della Color Up si terrà il 28 febbraio alle piane di Mocogno le iscrizioni sono appena iniziate una Color Run tutta sulla neve per ottenere il massimo del divertimento e dell'effetto cromatico sul bianco delle vallate è questo l'auspicio che ha spinto a organizzare alle piane di Mocogno una versione invernale della corsa non competitiva a suon di polveri colorate che lo scorso agosto aveva mobilitato quasi 1200 persone a Montecreto prima edizione di un evento di questo tipo sulle nostre montagne l'evento l'estate scorsa è stato purtroppo in parte rovinato dalla pioggia ma lo staff non si è perso d'animo e invece di aspettare un anno per riprovarci ha deciso di rilanciare già in questi mesi facendo traslocare l'appuntamento nella stazione sciistica per sfruttare le sue potenzialità e gli ampi spazi che in caso di largo afflusso non dovrebbero creare problemi anche con neve e gelo tutto è stato fissato per il 28 febbraio e in seconda battuta per il 6 marzo in caso di ulteriori contrattempi meteo le iscrizioni si sono aperte il primo dicembre e dagli oltre 1500 mi piace già totalizzati sulla pagina facebook ci sono tutti i presupposti per un altro grande evento di massa sarà allestito un percorso di 3 chilometri che ognuno potrà fare come crede anche con sci e ciaspole come il precedente anche questo appuntamento non è agonistico e la sfida è solo tra chi viene colorato di più con tinte assolutamente bio ricavate con polveri vegetali e facilmente rimovibili in pochi istanti siamo alla notizia nazionale del giorno con al centro il crollo verificatosi al dipartimento di veterinaria dell'università federico secondo di napoli fortunatamente la preventiva evacuazione degli edifici ha scongiurato il peggio attimi di paura nella giornata odierna al dipartimento di veterinaria dell'università federico secondo di napoli alle 13.30 due parti della palazzina che ospita il dipartimento si sono sgretolate in seguito ad alcune lesioni strutturali originatesi lungo le pareti una parte dell'edificio crollato era disabitata da tempo l'altra ospitava docenti e ricercatori le prime grosse crepe che stando alle indiscrezioni sarebbero state provocate dalle infiltrazioni penetrate in una voragine presente sotto l'edificio sono state segnalate durante le prime ore del mattino verso le 4.30 circostanza davvero fortunosa dal momento che in seguito a questa prima segnalazione l'intera palazzina era stata dichiarata inagibile quindi non ci sono stati né vittime né feriti per motivi precauzionali e anche altre aree circostanti a quelle in cui si è verificato il cedimento sono state evacuate mentre l'ufficio geologico comunale sta provvedendo i rilievi necessari per comprendere come intervenire per mettere in sicurezza la zona e procedere poi a un eventuale risanamento l'esito dei controlli sarà utile per verificare se altri edifici della zona dovranno essere precauzionalmente evacuati per i prossimi giorni inevitabili i disagi con il traffico bloccato nelle strade circostanti al dipartimento e le elezioni tempestivamente sospese in facoltà Una pausa pubblicitaria prima della rubrica economica a tra poco Ben ritrovati a TGQI come di consueto la pagina economica Le borse europee chiudono tutte con il segno negativo Milano chiude a meno 0,17% Londra meno 0,14% Francoforte meno 0,76% Madrid meno 0,02% e Parigi meno 0,95% Lo spread e il differenziale di rendimento tra i BTP decennale e i BUN tedeschi chiude in area a 97 punti base i bonus spagnoli 109 punti Cellulat francesi 32 punti Cambio euro-dollaro 109,86 I migliori titoli di giornata Maglia Rosa Saipem più 1,76% Tenaris più 1,29% Enel più 0,95% Toz più 0,87% Enel Green Power più 0,84% I peggiori titoli di giornata Maglia Nera Media 7-3,04% Banca Popolare di Milano meno 2,38% Campari meno 1,92% Telecom Italia meno 1,72% I CNH Industria almeno 1,66% Passiamo ora alle società modenesi quotate in borsa Banca Popolare dell'Emilia Romagna meno 1,08% chiude a 6,870 euro per azione Ceramiche Ricchetti meno 1,99% chiude a 0,251 euro per azione Mare meno 1,18% chiude a 19,330 euro per azione Panaria meno 6,27% chiude a 3,292 euro per azione ed infine primi sui motori più 4,19% chiude a 4,022 euro per azione e per questa edizione è tutto il nostro telegiornale termina qui e torna domani grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti